Qual è il programma della venticinquesima edizione dell'evento? Noi promuoviamo questa manifestazione che è legata essenzialmente ai candidi di questo, nella ricorrenza di Sant'Antonio, che come tutti sanno è il protettore degli animali domestici, non di tutti gli animali, di quelli domestici, ed è il protettore dei contadini. Un culto che si perde nei tempi, anche i candidi di questo si vedono nei tempi perché ci traccia dei candidi di questa, lo cita Ovidio già nell'era latina e successivamente molti ne parlano anche in Medioevo. I candidi di questa erano le compagnie di questo, che Sant'Antonio organizzava per raccogliere mezzi, alimenti per sostenere i propri confraterli. Le compagnie erano composte appunto da persone che pregavano, portavano la benedizione del Santo e cantavano. Gli strumenti essenziali erano pochissimi, non quelli di oggi, delle nostre orchestrine ben attrezzate, era l'acciarino e il campanello. Soprattutto il campanello era il segnale che quella compagnia era una compagnia legittima, cioè sotto la protezione di Sant'Antonio. Ma lo scopo, le finalità e l'intendimento del canto di questo, anche oggi, è per ottenere qualcosa. I nostri gruppi vengono a cantarci e a dietare le serate perché alla fine ottengono un riconoscimento.